Siamo presso la sede della Canottieri Lecco, siamo con il Presidente Marco Cariboni. Tempo di rilancio anche per la Canottieri dopo due anni difficili, tragici per la notte epidemia che ha dilagato in tutta la penisola e anche oltre? Certamente abbiamo avuto problemi anche qua in Canottieri. L'anno scorso, come è noto a tutti i soci, ma anche a buona parte dei lecchisi, abbiamo chiuso tutto, fattore che non succedeva neppure durante le due guerre mondiali. Quest'anno, o meglio l'anno scorso, l'anno appena passato, ci siamo ripresi gradatamente, molto di recente abbiamo riaperto il bar, il ristorante, stanno ripartendo alcuni servizi, ancora con grande cautela. Noi, a prescindere dalle normative, siamo stati e vogliamo tuttora essere ancora un po' più rigidi. Abbiamo un'interessante piccola task force, l'abbiamo denominata task force Covid-19, che è formata dall'ingegner Gerosa, dal dottore Invernizzi, medico sociale, da Fausto Cremella, responsabile RSPP, i quali sono loro che ci aggiornano su cosa dobbiamo fare ogni giorno, in poche parole, disinfezioni, mascherine, magari tutto, eccetera, eccetera. Insomma, stiamo molto allerta. Presidente Gariboni, tra l'altro o soprattutto l'epidemia, il dilagante virus ha bloccato le celebrazioni dei 125 anni della canottia di Lecco e ha bloccato anche il grande progetto di una piscina coperta qui nell'area del vicino campo da tennis. Riprenderanno queste iniziative, i 125 anni sono passati, e per quanto riguarda invece un progetto che era destinato a marchiare, a contraddistingue il futuro della canottieri con una piscina coperta funzionante tutto l'anno, un gioiello per il patrimonio sociale, c'è la possibilità di qualche ripresa? Allora, tra l'altro, oltre le due cose che ha accennato, ne dico una anche molto più frivola, il Carnevalone che è stato, come tu sai benissimo, rinviato, aveva deciso come reginetta Grigna, come regina Grigna, una nostra socia a cui ci deteniamo molto. Detto questo, che chiaramente è un fatto piuttosto leggero, parlando del progetto Piscina. Il progetto Piscina, come tu sai, verrà realizzata dove, o speriamo di poterla realizzare, dove oggi c'è il campo da tennis, abbiamo incrementato però il progetto perché abbiamo perso del tempo, in parte dovuto dalla pandemia, in parte perché abbiamo fatto una notevole revisione progettuale. Il progetto originale era metto la piscina sul campo da tennis e metto il tennis sul tetto della piscina. Poi però ci siamo detti, posto che dobbiamo fare opere così imponenti, di scavo eccetera eccetera, perché no scendere sotto e creare una nuova darsena per deposito imbarcazioni sotto la piscina, quindi darsena, piscina e campo da tennis sopra. È un progetto molto ambizioso, tecnicamente è fattibile, l'ingegnere Alderighi ha fatto tutti i progetti del caso ed è fattibile, abbiamo fatto le prove penetrometriche del terreno ed è fattibile. La pratica attualmente è sul tavolo dell'intendenza a Milano, è della sovrintendenza e pensiamo dall'eco che abbiamo che sia fattibile. Dopodiché ci sono due passaggi fondamentali che sono A. Vedere come reperire i mezzi per fare un'opera del genere B. Un'assemblea straordinaria generale dei soci cui spetta, sia chiaro l'ultima parola, se fare o se non fare. È un progetto molto ambizioso, ma è il progetto che può rilanciare la Canottieri durante l'inverno perché come tutti è noto, mentre i quattro mesi estivi la Canottieri deve, tra virgolette, respingere agli accessi, d'inverno abbiamo un patrimonio poco utilizzato perché manca una struttura natatoria coperta. In questo ormai imminente vicino a primavera, la Canottieri propone già delle iniziative, delle manifestazioni che possono rappresentare l'inizio di una ripresa, la via di un ritorno alla normalità. Senz'altro. Ci sono i consiglieri addetti al tempo libero, chiamiamolo così, insieme ai consiglieri addetti allo sport, stanno già mettendo a punto qualcosa per l'estate. Allora già confermo che ci saranno aperti anche agli esterni, soprattutto agli esterni, come per tradizione della Canottieri, corsi di vela e corsi di canoa e corsi di canotaggio e corsi di nuoto. Quindi sotto l'aspetto strettamente sportivo, a parte l'agonismo che è quello il nostro scopo, quindi fin d'ora confermo che come il tempo cambia, dobbiamo aspettare maggio evidentemente, visto che facciamo degli sport sull'acqua, partiranno questi corsi a prezzi assolutamente come nello spirito della Canottieri, affrontabili da tutti. Quindi ribadisco, corsi di canoa, corsi di canotaggio, corsi di nuoto, corsi di vela. inizieranno appena la stagione lo permette, quindi diciamo prima di giugno, fine maggio, prima di giugno, per portarsi fino alla fine di settembre. Questo per la parte strettamente sportiva. Per la parte, direi, ludica, sono previste una serie di manifestazioni culturali che li terremo nelle nostre sale, sia al chiuso che all'aperto, per tutto l'estate. Quindi un programma abbastanza intenso, diciamo a recupero di quello che non abbiamo fatto nei due anni passati. Intanto la Canottieri Recco registra un lago basso, eccezionalmente basso, che riporta la memoria in la secca del 1997 e quella del 2003. Sono in difficoltà le imbarcazioni parcheggiate nella Darsana? Allora, in Canottieri esiste un idrometro che è fissato sul muro della Canottieri da quando è stata costruita la Darsana della Canottieri. Ora siamo a, direi, a un 10-15 centimetri dal limite, dopodiché non è più agibile il porto della Canottieri. Già oggi barche a chiglia profonda, barche un po' impegnative, barche che hanno chiglia dal 1,80, 1,70, 1,90, purtroppo appoggiano sul fondo, senza danno perché il fondo è ricco di melma, però la barca è inutilizzabile. È chiaro, confidiamo in una ripresa, se no queste barche rimangono, direi, incastrate. Ma il problema non è quello, al limite qui si tratta che qualcuno, io per primo devo rinunciare a farmi una velata. Il problema è che quando il lago scende sotto questi livelli si scoprono tutte le palafitte. Non dimentichiamo che la Canottieri, ne è un esempio, ma la Canottieri è una costruzione del 1920 in cemento armato, su palafitte, ma in cemento armato. Mentre tutti i porti, vediamo i piccoli porti comunali, sono fatti in sasso di moltasio, appoggiato sempre sulle palafitte. Quindi questi pali, quando escono dall'acqua, chiaramente è noto che il palo di palafitta, finché resta sott'acqua, rimane duro come il ferro, come emerge, tende subito a marcire, il che crea dei problemi ai moli. Noi lo vediamo perché abbiamo avuto un molo che si è spostato per effetto di questo. Quindi è chiaro, questo è un discorso vecchio, tu lo conosci benissimo, c'è sempre stato una... Se oggi parli con uno che utilizza il lago, dici la diga, la diga, la diga, ce l'hanno tutti a morte con la diga. Decisamente io penso che prima o poi i comuni del lago si devono mettere d'accordo per trovare il sistema all'unisono. Chiaramente non possono gestire la diga di Olginate, ma devono avere una forza tale per dire sotto un certo livello non si può andare. Perché ribadisco, non metti a repentaglio la navigazione, ma metti a repentaglio le strutture portuali. Ecco Marco Carivone, un'ultima domanda. Noi non abbiamo registrato casualmente, ma con richiami specifici, storici, questa intervista sotto la lapide che ricorda i fondatori della canottia di Lecco nel lontano 1895, quando alcuni soci, trovandosi al teatro della società, una sera di settembre o di ottobre, non ricordo bene, di una stagione autunnale, fondarono questa società e decisero poi di avere i colori sociali nell'azzurro e nel blu, i colori del cero e del lago che si dominano anche questa mattina così bene dal terrazzo al lago della canottieri in questa mattina di sole anticipato di primavera, ma purtroppo con temperatura ancora fredda e anche con discrete e a qualche volta anche forti raffiche di vento, ma questo rende più visibile il paesaggio. Ricordiamo questa rapide perché? Perché dice i soci e i riconoscenti seppur tardivamente posero. Allora, innanzitutto facciamo un passo indietro. Innanzitutto qui in località Lazzaretto, che tutti le chesi e tu per primo sai benissimo dove si trova, esisteva la cosiddetta giazzera, dove un gruppo di sportivi d'inverno si divertivano a pattinare su ghiaccio. E' questo stesso gruppo che si è posto il problema di dire quando ghiaccio non c'è più, cosa facciamo? Qualcuno ha detto prendiamo una barca, mettiamoci ad andare in barca, sfidiamo i barcaioli di Malgrate, e ci sono state delle sfide, questo già direi nel 1890. Quindi tra il 1890 e il 1895 c'è stato questo desiderio di mettere le mani al remo. Nel 95 sorge la Canotieri, come hai detto, come hai ricordato, era la sera del 27 settembre, presso il foie del teatro sociale proprio. E nasce, tra l'altro nasce in una maniera un po' impropria, perché i promotori avevano detto la facciamo nascere quando avremo 50 adesionisti. Sti 50 non arrivavano mai, per 2-3 anni erano 30-35. E ho notato dalle carte che a un certo punto hanno fatto carta farsa e hanno detto siamo in 50. E così è nata la Canotieri. La Lapide che tu ricordi è molto più importante, perché la Lapide ricorda quando alcuni di quei 50, e qui parliamo di imprenditori illuminati lecchesi, hanno detto benissimo, la Canotieri sulla carta l'abbiamo fatta. Attualmente il Comune ci ha dato questo pezzo di terreno in fondo a Via Nullo dove c'era il canile municipale. E nella casa del canile municipale ci stiamo arrangiando. E' tempo che costruiamo una sede direi degna di Lecco. Questi, in particolare, dobbiamo guardare dei nomi famosissimi come l'ingegner Badoni, l'ingegner Bifi, il senatore Locatelli, il dottor Fiocchi, insomma quelli che ancora oggi hanno rappresentato e rappresentano le più grandi industrie del territorio. Una bella sera si sono messi lì e a mo' di scommessa hanno detto beh tu cosa metti dentro? Io metto un milione, io ne metto due, io ne metto cinque, io ne metto sei. Insomma, sono riusciti a mettere in pista, in piedi e soprattutto in cassa una cifra incredibile per quell'epoca. Tanto è vero che altri 80 li hanno seguiti in forma chiaramente minore e riuscendo a dar vita a una società che c'è tuttora, che è amministrata dal ragionier Luigi Baggioli delle officine OMAP. Questa riunione riuscì a mettere in cassa quello che oggi potrebbe essere il valore di circa 2 milioni di euro di oggi, tirati fuori di tasca propria. Con quella cifra si è costruita la canottieri che vedete oggi. In realtà la canottieri che vedete oggi è stata costruita tra il 1920 e il 1927, salvo la piscina che è un fatto più recente, salvo gli archivi e le officine che sono fatti più recenti. ma il grosso, quella che sono abituati le chesi a vedere, è stata costruita con quattrini di, per l'esattezza, 84 illuminati cittadini le chesi che di tasca l'ora hanno messo dentro i milioni. Nella sala ristorante della canottieri Lecco c'è questo nuovissimo dipinto della socia della canottieri Lecco che è anche un'atleta del settore nuoto, Monica Airoldi. Cosa rappresenta? Dunque, direi che a parte che è bello e è piaciuto a molti in questi giorni, diciamo domenica è stato visto per la prima volta alcuni soci, rappresenta la canottieri esattamente in una mattina del 1914, così era la sede nel 1914. Ora, l'edificio di sinistra era l'ex canile municipale, poi passato alla canottieri, è trasformato in hangar per le barche del canottaggio e spogliatoi. Mentre l'edificio di destra è un edificio particolarissimo perché nel 1900 a Como c'è stata l'esposizione voltiana e questo è uno stand di una ditta inglese prefabbricato che alla fine dell'esposizione voltiana è stato smontato e rimontato in canottieri e è un edificio che c'è tuttora. L'edificio è veramente interessantissimo, è fatto tutto con lo scheletro di legno ed è un edificio torno a dire smontabile, diciamo così. Poi negli anni evidentemente l'abbiamo consolidato. il notazione è stato pagato 500 lire oro nel 1900 compreso lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio. Altro fatto curioso chiaramente non c'era la darsena quindi il lago lambiva questi edifici. Per intenderci dove c'è il canile poi demolito oggi c'è il piazzale mentre dove stiamo in questo momento all'interno del ristorante è la palazzina edificata dove a sinistra si vede quell'albero chissà perché la nostra decoratrice lo vede bianco forse era inverno con la neve non si sa e lì c'è l'edificio da cui vi stiamo parlando. Mi sembra che sia un'opera bella comunque. Bene allora Marco Cariboni ricchi di tanta storia o meglio ricca di tanta storia la canottiera Ilecco guarda con rinnovata fiducia e rinnovata speranza ai prossimi traguardi dopo i due anni veramente brutti per tutti anche per la canottieri della pandemia del virus. Non dimentichiamo che il sottoscritto che peraltro ha passato la vita qua in canottieri premesso io sono nato in via Leonardo Avinci quindi in canottieri ci sono venuto in carrozzella immagino ma sottoscritto a parte la sua età anagrafica Paracchiani che dirige il circolo ed è arrivato il momento forse di un giusto ricambio l'anno venturo per l'esattezza nel 23 io scado ed è tempo che qualcuno incomincia a pensare a sostituirmi perché francamente io in canottieri ci vengo volentieri ci vengo tutti i giorni continuerò a venirci ma non ho più quella lucidità credo che è necessaria per dirige un circolo di queste dimensioni. speriamo che per il 23 magari il presidente uscende cambi parere il nostro augurio e la nostra speranza e la nostra lucidità anche grazie grazie